Bentornati su Shacy Crime, io sono Shacy e se state guardando questo video significa che è sabato e che sto per raccontarvi una nuova storia. Se i miei contenuti vi interessano lasciate un like, iscrivetevi al canale e non scordate di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi le prossime storie. Lasciate sempre un commento sotto al video della settimana per dirmi la vostra opinione sul caso, in questo modo riuscirete a farmi arrivare a più persone possibile. E adesso, iniziamo! Bentornati ragazzi, bentornati! Come sempre spero che abbiate trascorso un'ottima settimana. Oggi ragazzi vi voglio parlare di uno dei più grandi omicidi di massa mai avvenuti, è un caso avvenuto in Giappone ed è la storia della Kyoto Animation. Questo caso si svolge in un quartiere di Kyoto nel 2019 e la Kyoto Animations è uno degli studi di produzione di anime più grandi ed in maggior successo del paese. Io per esempio ho divorato Clannad e Clannad After Story per due volte piangendo come una fontana, ma nulla da togliere per esempio al film A Silent Voice, anche quello molto molto emozionante. Oppure a serie tipo The Melancholy of Harui su Zumaia. L'azienda vera e propria è suddivisa in tre edifici. Lo studio 1, lo studio 2 e voi direte, beh, è lo studio 3? No, lo studio 5. Nello studio 1 troviamo lo staff che dà letteralmente vita alle opere, mentre nello studio 2 è una sorta di sede centrale dove si trovano i big boss. Mentre invece non ho trovato informazioni sul famigerato studio 5, rimane un pochino un mistero. Ma la nostra storia si svolge nello studio 1, luogo appunto dove tutte le animazioni e tutte le storie di personaggi prendono vita. Lo studio 1 si trova nel quartiere Fushimi di Kyoto ed è un edificio di tre piani, in ciascuno dei quali si trovano diversi spazi da lavoro ed uffici. Il 18 luglio del 2019, 70 dipendenti dell'azienda arrivano in ufficio come ogni giorno, ma ciò che non sanno è che quello non è un giorno come tutti gli altri. Intorno alle 10.30 del mattino, infatti, uno strano uomo si avvicina allo studio 1 e si fa strada attraverso la porta d'ingresso, portando con sé un carrello con sopra un mucchio di taniche, piene di un liquido non identificato. Una volta arrivato all'interno dell'edificio, prende una di queste taniche, la apre e inizia a versare il contenuto sul pavimento, così davanti a tutti senza spiccicare nemmeno mezza parola. Al che alcuni dei dipendenti si avvicinano di corsa a quest'uomo chiedendogli, scusa ma cosa stai facendo? Chi sei? E lui non li degna nemmeno di uno sguardo. raccoglie le taniche una per una, le apre e le versa sul pavimento, sulle pareti, sui mobili e persino sulle persone. E mentre lo fa, ragazzi, urla a ciascuno dei dipendenti, muori. Gli operai cercano disperatamente di attirare l'attenzione di quest'uomo e di fermarlo, ma lui è come dissociato dalla realtà. È in una sorta di trance, non li guarda, non parla con loro, resta concentrato su quello che sta facendo ed è come se tutto il resto intorno a lui non esistesse. Improvvisamente, davanti a tutti i dipendenti terrorizzati, l'uomo tira fuori un accendino dalle sue tasche e non appena attiva la fiamma, si verifica un'enorme esplosione al piano terra dell'edificio. In una frazione di secondo, l'intero piano viene avvolto dalle fiamme, così come alcune delle persone che erano state appunto ricoperte da quel misterioso liquido, che sì, ragazzi, era proprio benzina. Ogni singolo mobile viene inghiottito dal fuoco, così come gli operai e l'uomo stesso che aveva appiccato l'incendio, perché prima di appiccarlo appunto si era ricoperto di benzina anche lui. E voi a questo punto direte, sì, ok, ma perché semplicemente non escono dall'edificio? Cioè, sono al piano terra, in un attimo potrebbero uscire. Beh, è praticamente impossibile riuscire ad attraversare la porta d'ingresso, questo perché era stata cosparsa di benzina insieme a qualsiasi altra possibile via di fuga. Nel giro di pochi minuti, l'intero piano terra ed anche il primo piano si ritrovano in fiamme. Immaginate quindi gli operai del primo piano che totalmente a caso si ritrovano circondati dal fuoco. Immaginate la paura, il panico che questa povera gente ha provato. Si ritrovavano come topi in gabbia nella loro stessa azienda, senza nemmeno una via di fuga. Nel giro di 30 minuti, il fumo riempie tutti i piani e le fiamme arrivano al terzo piano e nessuno riesce più a vedere nulla. Nessuno sa dove sta andando e l'ossigeno inizia anche a scarseggiare. I polmoni infatti vengono pian piano riempiti di fumo. In molti cercano una via di fuga dal tetto dell'edificio. Cercano di risalire infatti la scala a chiocciola che porta dal terzo piano al tetto. Pensando che una volta arrivati in cima ci possa essere magari una via di fuga. Magari possono fuggire saltando sul tetto di un edificio vicino. Ma la scala ragazzi è troppo stretta. È così stretta da poter far passare una sola persona alla volta. Ed in questo caso tutti sono nel panico e si ammassano per cercare di uscire. Non vedono niente, appunto sono avvolti dal fumo. E molti di loro cadono e si calpestano a vicenda. Il fumo in più inizia pian piano a soffocare le persone, facendogli perdere i sensi. Nel frattempo l'autore dell'incendio al piano terra sta cercando di fuggire dall'edificio. Quindi corre fuori passando dalla porta d'ingresso per niente spaventato appunto dall'ingresso in fiamme. Anche perché lui stesso è in fiamme. Ma viene inseguito e bloccato da due dipendenti dell'azienda così coraggiosi da attraversare anche loro il fuoco che avvolge la porta d'ingresso. Quindi lo placcano, lo spengono e lo tengono lì fermo fino all'arrivo della polizia. Al loro arrivo invece i vigili del fuoco fanno tutto il possibile per cercare di domare l'incendio. E con domare non intendo spegnere, ma solo assicurarsi che non si estenda più di quanto non abbia già fatto. E per farlo ragazzi ci vogliono ben 5 ore. Mentre per estinguerlo completamente ci vorrà molto di più. Quasi 24 ore ragazzi. Viene infatti completamente estinto soltanto alle 6 del mattino del 19 luglio. E ricordiamoci che è stato appiccato alle 10.30 circa del mattino del 18 luglio. Quindi una volta spento l'incendio, gli investigatori riescono a entrare nello studio di animazione e a dare un'occhiata all'edificio. E ciò che si trovano davanti è letteralmente la scena di un film dell'orrore. Ci sono corpi carbonizzati sparsi ovunque. Su ogni piano, sulle scale e soprattutto sulla scala chiocciola che portava appunto dal terzo piano al tetto. La stessa di cui vi ho parlato prima. Vengono ritrovati 34 corpi in totale e 20 di questi sono appunto vicini a queste scale. È straziante pensare a quanto fossero vicini al tetto ma che non sono riusciti a raggiungerlo. Durante l'autopsia della maggior parte delle vittime viene riscontrato che le cause dei decessi erano lesioni fisiche provocate dalle fiamme. E questo lascia un po' tutti sbigottiti perché inizialmente si pensava che molti fossero deceduti a causa del soffocamento provocato dal fumo e non per via delle fiamme. Come succede anche nella maggior parte dei casi ma in questo caso specifico non è stato così. L'incendio infatti era stato così aggressivo, così veloce da averli raggiunti per primo e questo significava che erano stati bruciati vivi. Avevano sentito tutto. Come detto prima la maggior parte dei corpi ritrovati sono totalmente carbonizzati e di conseguenza anche irriconoscibili. Per questo motivo devono essere identificati attraverso impronte dentali, test del DNA ed altri metodi e pensate alle povere famiglie che trauma hanno dovuto subire per identificare i propri parenti completamente ostionati. Come ho detto all'inizio però le persone all'interno dell'edificio quel giorno erano 70 ed infatti oltre ai 34 deceduti 36 persone erano sopravvissute. Alcune sono gravemente ferite e vengono portate in ospedale rimanendo in terapia intensiva per mesi prima di riprendersi. In molti vengono sottoposti ad interventi chirurgici molto importanti come trapianti di pelle su praticamente tutto il corpo ma purtroppo due di loro non ce la faranno. Il totale delle vittime così arriva a 36. La Kyoto Animation ritiene che rendere pubblici i nomi delle vittime non faccia bene alla comunità e quindi anche per rispetto verso le famiglie dei deceduti l'azienda decide di non divulgare i loro nomi. Ma le famiglie stesse possono farlo, possono decidere di rendere pubblico il nome dei loro cari. In pratica la Kyoto Animation dava alle famiglie la possibilità di scegliere quanta privacy volessero. Se avessero voluto rivolgersi ai media erano liberi di farlo, se invece non volevano di certo la Kyoto Animation non l'avrebbe fatto per loro. Per questo motivo posso parlarvi solo di alcune delle vittime coinvolte in questa orribile strage. Una di loro è Naomi Ishida di 49 anni, è la prima vittima ad essere identificata dalla sua famiglia. Il suo corpo viene ritrovato al secondo piano dell'edificio. Naomi era una colorista della Kyoto Animation e aveva iniziato a lavorare nell'azienda quando si era appena laureata. Era letteralmente il suo primo lavoro e lo amava. Amava quello che faceva e ha lavorato a molti grandi titoli prodotti dalla Kyoto Animation. La causa della morte di Naomi è stata un avvelenamento da monossido di carbonio per via appunto del fumo. E la sua famiglia l'ha seppellita con un vestito che Naomi aveva conservato per il giorno del suo matrimonio. Yasuhiro Takemoto, 47 anni, era un regista, animatore e sceneggiatore della Kyoto Animation. Uno dei membri più importanti del team. Anche lui aveva iniziato a lavorare lì da dopo la sua laurea, ottenuta in una scuola di animazione a Shibuya, che per chi non lo sapesse si trova a Tokyo. Un'altra vittima è Yoshiji Kagami di 61 anni. Yoshiji era un animatore, regista e storyboarder con una lunghissima carriera alle spalle. E prima di lavorare per la Kyoto Animation aveva lavorato ad altri grandi titoli con altre aziende. Futoshi Nishiya, di 37 anni, era un animatore, regista e character designer. Anche lui è entrato nell'azienda appena dopo essersi laureato. E voglio aprire una piccola parentesi. Gli animatori in Giappone di solito non vengono pagati molto bene. È un lavoro molto stressante e poco retribuito. Anzi, molte volte si parla proprio di sfruttamento. Ma la Kyoto Animation era diversa. I dipendenti venivano trattati bene e ricevevano un ottimo stipendio. Per questo motivo, gli animatori emergenti aspiravano al poter lavorare per la Kyoto Animation. Perché sapevano benissimo che era una delle migliori aziende del campo. Ed ecco perché chi riusciva ad entrare a far parte dell'azienda subito dopo la laurea, cioè non si spostava più. Quello era il posto migliore che potessero trovare e di sicuro non l'avrebbero mai lasciato. Ma come ho detto, queste sono solo alcune delle vittime che hanno perso la vita quel giorno. 36 persone sono morte a causa di questo massacro. E la Kyoto Animation non solo ha subito la perdita di 36 dipendenti di grande talento, ma quel giorno ha perso anche molti dei suoi lavori. Tutti i loro computer, tutto il lavoro, gli hard disk e le cose che avevano fatto per anni è andato perso. Ma tornando alla storia. Grazie ai due coraggiosi dipendenti dell'azienda, il colpevole di questa tragedia viene catturato. Ma anche lui, come molti altri, è gravemente ferito e viene portato d'urgenza in ospedale. Ma prima di farlo, la polizia decide di perquisirlo e scopre che si era portato dietro anche sei coltelli, probabilmente da utilizzare come piano di riserva se l'incendio non fosse andato a buon fine. L'uomo comunque arriva in ospedale e rimane lì per circa due mesi. Entra in coma ed i medici sono convinti che abbia pochissime possibilità di sopravvivere. Ma alla fine, dopo qualche mese, si riprende ed esce dal coma. Viene attaccato ad un respiratore per un po' di tempo e viene anche operato più volte per effettuare dei trapianti di pelle per via delle ossioni riportate e per un periodo si sposta con una sedia a rotelle perché per via del coma non si è mosso per mesi ed i suoi muscoli si erano ormai atrofizzati. Tutta la riabilitazione dura più di sei mesi ed in questo tempo la polizia non può nemmeno portare avanti le indagini. Questo perché il personale dell'ospedale non glielo permette. Decidono quindi di indagare in un altro modo, ovvero parlando con i sopravvissuti all'incendio. Raccontano quindi alla polizia di aver ricevuto più di 200 email minatorie da una fonte anonima per circa un anno prima di quel 18 luglio del 2019 e sostengono di avere la sensazione che quelle mail siano collegate a quell'incendio. L'identità della persona che inviava le mail però era stata bloccata con un qualche programma quindi non importava quante volte il personale dell'azienda segnalasse la cosa alla polizia perché tanto non potevano fare nulla. Non potevano rintracciare il mittente di queste mail, non potevano scoprire chi fosse e quindi per cercare di proteggere lo studio e tutti i suoi dipendenti gli inquirenti all'epoca mandarono degli agenti a pattugliare la zona e a fare praticamente da guardia del corpo fuori dallo studio per diversi mesi. Ma ad un certo punto queste email si sono interrotte questo poco tempo prima dello scoppio dell'incendio. La polizia aveva quindi pensato che non ci fosse più bisogno della vigilanza e quindi avevano smesso di pattugliare la zona. I sopravvissuti dicono anche che non c'era stato nessun segno che poteva far pensare ad un attacco simile. Dicono di non avere idea del perché fosse avvenuto e soprattutto perché fosse accaduto proprio quel giorno. Nel frattempo il colpevole termina la sua riabilitazione e voi starete dicendo Sì, ok Chasey, ma chi è su cui dacci un nome? Bene ragazzi, il suo nome è Shinji Aoba nato il 16 maggio del 1979 e 41enne al momento del massacro. Shinji ammette più volte di essere la persona che ha piccato l'incendio non prova minimamente a mentire anzi è super collaborativo. Shinji Aoba comunque è già noto agli inquirenti. Nel 2012, quindi circa sette anni prima, aveva commesso una rapina a mano armata ovvero con un coltello in un negozio di Tokyo e si era poi consegnato volontariamente alla polizia e per questo era stato condannato a tre anni e mezzo di prigione. È stato poi rilasciato nel 2016 e in seguito ha trascorso molto tempo in un centro di riabilitazione una sorta di alloggio per ex detenuti che serve per aiutarli a integrarsi di nuovo nella società per aiutarli a trovare un lavoro e anche a tenerli d'occhio in modo che non ripetano di nuovo gli stessi errori. Ma non solo! Li aiuta anche finanziariamente gli pagano l'affitto e forniscono loro tre passi al giorno gratuiti. Ma naturalmente Shinji non poteva rimanere lì per sempre e decise quindi di trasferirsi in un appartamento. La sua vita era tristemente solitaria non aveva amici non parlava con nessuno dei suoi familiari non vedeva nessuno non usciva mai di casa. I suoi vicini lo ricordano come un recluso un'eremita e anche una persona piuttosto scortese. Per esempio ignorava le persone che lo salutavano e ignorava anche le lamentele per il rumore che faceva che riceveva dai vicini e ragazzi ne riceveva molte. Questo perché era solito tenere la musica o la televisione ad alto volume senza preoccuparsi minimamente di poter infastidire qualcuno. In più Shinji aveva una scarsissima igiene personale ed emanava quindi un odore pessimo indossava gli stessi vestiti per giorni e giorni senza mai lavarsi e il suo stesso appartamento era in pessime condizioni ed emanava lo stesso pessimo odore che aveva Shinji. Della sua infanzia invece non si sa molto si sa che i suoi genitori divorziarono quando era molto piccolo e lui andò a vivere con suo padre mentre sua madre uscì completamente dalla sua vita e da quella dei suoi due fratelli. Nel 1999 quando Shinji aveva 21 anni suo padre purtroppo si tolse la vita ed il ragazzo ne rimase così scioccato da chiudersi in se stesso ed isolarsi dal mondo intero allontanandosi dai suoi fratelli da tutti i suoi amici e dalla società intera decise letteralmente di non voler avere più contatti con il mondo esterno voleva solo stare nel suo appartamento leggendo i suoi manga per chi non sapesse cosa è un manga è questo è un fumetto giapponese che si legge letteralmente al contrario nel senso i libri solitamente si leggono così no questa è la fine questo è l'inizio e niente questo qua è Sakura chi non l'ha mai visto Sakura? pesca la tua carta Sakura vabbè comunque continuiamo Shinji iniziò questa sua vita da Hikikomori che è il termine che viene usato in Giappone per indicare appunto le persone che conducono una vita distaccata dalla società e quindi un'eremita all'età di 21 anni e andò avanti così fino ai 41 anni età in cui ha piccato appunto l'incendio alla Kyoto Animation nel 2012 aveva poi appunto commesso quella rapina a mano armata ed una volta in prigione gli era stato diagnosticato un disordine mentale e per questo aveva iniziato un percorso psicologico un trattamento psicologico che però non aveva portato avanti dopo aver lasciato la prigione ma ora arriviamo alla domanda che tutti ci stiamo facendo perché lo ha fatto perché ha dato fuoco all'azienda uccidendo così tante persone cosa c'era di particolare in quello studio di animazione e perché Shinji era così arrabbiato con loro beh quando la polizia inizia a indagare su quest'uomo e sulla sua storia salta fuori un potenziale muovente la Kyoto Animation organizza ogni anno un concorso in cui i fan possono inviare una storia scritta da loro e quella del vincitore viene trasformata in un anime in palio c'è anche un premio in denaro di un milione di yen che sono circa 6.000 euro e questo concorso è davvero molto conosciuto ed ogni anno milioni di persone mandano i loro lavori e le loro storie puntando a vincere anche solo per poter indicare la televisione e dire ehi quell'anime è mio e ragazzi indovinate un po' si scopre che Shinji aveva partecipato a questo concorso per ben due volte una volta nel 2017 e una volta nel 2018 anno prima dell'incendio ma Shinji non aveva superato le selezioni in nessuna delle due occasioni e voi direte ah ecco si è arrabbiato perché è stato rifiutato beh no il vero motivo della rabbia di Shinji risale all'inizio del 2019 mentre era a casa e come sempre stava guardando degli anime in tv quel giorno andava in onda per la prima volta un nuovo anime di cui Shinji non aveva mai sentito parlare quindi aveva deciso di guardarlo l'anime era stato prodotto proprio dalla Kyoto Animation e ad un certo punto Shinji aveva iniziato a notare qualcosa di molto familiare in una delle scene ad un tratto gli era scattato qualcosa in testa gli si era accesa una lampadina e si era reso conto che quella era la sua storia una di quelle che aveva inviato al concorso e che era stata rifiutata quindi capite Shinji si era reso conto che la Kyoto Animation aveva rubato la sua idea e lui era furioso per questo si ritiene quindi che da quel momento aveva iniziato ad inviare delle mail minatorie ad ogni singolo indirizzo di posta elettronica che era riuscito a trovare della Kyoto Animation minacciando tutti di morte questo però non è mai stato possibile dimostrarlo cioè si ritiene che fosse stato lui ma l'indirizzo mail da cui erano stati mandati questi messaggi era criptato e non sono mai riusciti a identificare la persona dietro a queste minacce però appunto le hanno collegate a lui andando un po' ad esclusione visto che solo pochi mesi dopo era stato proprio Shinji a dar fuoco all'edificio in ogni caso Shinji era convinto che la Kyoto Animation avesse rubato la sua idea ma era davvero così? dovete sapere che in realtà la scena che lui credeva fosse stata copiata dal suo lavoro era in realtà una scena molto generica si trattava di una scena in cui alcuni personaggi andavano in un negozio a comprare qualcosa se non mi sbaglio della carne e quella scena non diceva nulla di particolare non era riconducibile ad un plagio era una scena che si poteva e che si può vedere tranquillamente in qualsiasi anime o anche serie tv se fosse stato che Shinji aveva scritto qualcosa di più specifico tipo che ne so dei goofy fucs che ballano la macarena sull'isola di Tenerife allora ok sarebbe stato plagio avrebbe potuto tranquillamente dire che l'azienda aveva davvero rubato la sua idea ma la scena di cui parlava era davvero troppo generica per essere stata rubata comunque Shinji aveva iniziato appunto a inviare queste mail minacciose fino a quando all'improvviso aveva smesso di inviarle di conseguenza la polizia che pattugliava la zona ritenendo che non ci fossero più pericoli per la Kyoto Animation aveva smesso di appostarsi nell'aria ma intanto la vita di Shinji e la sua mente diventavano ogni giorno sempre più incasinate fino a raggiungere il punto di non ritorno tornando alle indagini gli inquirenti controllano i filmati delle telecamere a circuito chiuso sparse per Kyoto quindi immaginatevi il lavoro Kyoto comunque non è piccola e da questi riescono a ricostruire i movimenti di Shinji da quando era arrivato in città fino al giorno dell'attentato l'uomo aveva soggiornato in diversi hotel ed era anche andato in diversi negozi di anime manga il 18 luglio poi si era recato in una stazione di servizio a circa 9 km dallo studio 1 e lì aveva acquistato 40 letri di benzina aveva poi caricato tutto sul suo carrellino e aveva iniziato a camminare fino allo studio 1 dove era entrato e aveva dato fuoco a tutto quanto e ragazzi no lo studio non aveva nessuna misura di sicurezza la polizia non pattugliava più perché l'allarme appunto di minacce era rientrato non avevano chiave elettroniche per permettere di entrare solo ai dipendenti e non c'erano neanche dei citofoni l'ingresso era aperto a chiunque questo perché in Giappone casi del genere sono non rari ma rarissimi e quindi si basano tutti un po' sulla fiducia e di rispetto reciproco affidandosi anche al fatto che lì non succede quasi mai niente Shinji Aoba viene dunque arrestato nel maggio del 2020 con diverse accuse tra cui omicidio di primo grado tentato omicidio e incendio doloso e il suo processo però viene rinviato diverse volte a causa della diffusione del covid-19 ed inizia soltanto nel settembre del 2023 quindi l'anno scorso ed il 25 gennaio del 2024 quindi quest'anno Shinji Aoba viene finalmente sentenziato e condannato a morte per aver ucciso 36 persone dopo aver appiccato un incendio sì ragazzi in Giappone esiste la pena di morte e prima di questo caso non lo sapevo neanche io e solitamente avviene per impiccagione ma soltanto in caso di plurimum omicidio oppure di omicidi molto molto violenti e ragazzi devo dire che non era per niente scontata questa sentenza anzi le persone credevano che Shinji se la sarebbe cavata con l'ergastolo proprio per via del suo disordine mentale ma alla fine non è stato così non è ancora stata prevista una data per l'impiccagione di Shinji e da quanto capito il tempo di attesa dopo la condanna a morte non è mai specifico potresti venire condannato oggi e morire domani come tra 30 anni vi aggiornerò comunque in caso di novità ciò che restava dello studio 1 comunque è stato demolito nell'aprile del 2020 e al suo posto è prevista la costruzione di un parco commemorativo uno spazio verde con delle targhe per tutte le vittime di quel giorno in modo che le famiglie e gli abitanti stessi di Kyoto possano andare lì per rendere loro omaggio e ragazzi questo è tutto quello che ho trovato su questo caso e sono curiosa come sempre di sapere la vostra opinione secondo voi Shinji meritava la pena di morte oppure meritava solo l'ergastolo per via appunto dei suoi problemi psichici fatemelo sapere lasciando come sempre un commento qua sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e non scordate di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi le prossime storie seguitemi anche sugli altri social vi lascio come sempre i link qua sotto in descrizione e noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovo caso ciao ciao Grazie a tutti.